Si è fermato per un minuto di silenzio il Consiglio Comunale di Arezzo per la morte di Ciria Codemita, ex presidente del Consiglio e segretario della DC, ma anche per ricordare Fabrizio Beoni, architetto storico dirigente del Comune di Arezzo da qualche anno andato in pensione. La notizia della scomparsa di Beoni è stata infatti data durante la seduta del Consiglio, annunciata da Alessandro Caneschi, anche per lui così si è tenuto un minuto di raccoglimento. Nel corso del Consiglio poi è stato anche discusso e votato il bilancio di previsione del Comune Aretino. Il Partito Democratico aveva presentato un emendamento con il quale si chiedeva di impegnare un milione di euro di risorse per sostenere le famiglie in difficoltà. Nel resoconto dell'anno 2021 questa amministrazione ha fatto un avanzo di amministrazione, cioè dei soldi che sono rimasti non spesi, che arrivano a 12 milioni di euro, una cifra molto alta che evidenzia che questa amministrazione ha difficoltà a spendere soldi che però ha in cassa. Allora oggi che c'è una variazione del bilancio preventivo, quindi per tutto il 2022, abbiamo dato uno stimolo all'amministrazione come un emendamento per mettere un milione di euro di questi 12 milioni di avanzi dell'amministrazione nel capitolo delle persone per aiutare le persone a rischio di esclusione, le famiglie che sono diciamo alle prese col caro vita, con il caro bollette eccetera. Quindi diciamo per implementare questo capitolo perché io credo che sia come dire da indignarsi se ci sono delle famiglie a retini con le tasche vuote e hanno un comune con le casse piene di soldi. L'emendamento è stato bocciato, sempre in tema caro vita invece il vice sindaco Lucia Tanti ha presentato un piano straordinario dell'amministrazione da collegare ai 14 miliardi già messi in campo dal governo. È un piano articolato e diffuso, la prima tranche stamani mattina, il Consiglio Comunale con la variazione del bilancio, oltre mezzo milione di euro, 535 mila, di cui 200 mila dedicati direttamente ed esclusivamente alle famiglie per fare fronte all'estate, che è un periodo meraviglioso, ma insomma che rischia di inginocchiare chi lavora e chi non è nelle condizioni di trovare una sintesi tra la scuola chiusa e il lavoro ancora in corso. Sono 150 euro a figlio, quindi premiando le famiglie numerose in questo caso, che di fatto corrispondono in genere da due settimane a un mese completo di pagamento, dove la famiglia vuole del campo estivo. E questa è una prima parte. E poi ci sono 335 mila divisi in due voci, 140 e 197 funzionali, a sostenere le associazioni che parteciperanno al percorso partecipativo dedicato alla grave povertà e alla emarginazione e all'inclusione. E questa è la prima parte di oggi. Ne arriverà una seconda parte, che verrà ad armonizzarsi con i famosi 200 euro del governo per tutte le famiglie sotto i 35 mila euro, in quella manovra di 14 miliardi e che invece saranno dei piani personalizzati di ripartenza, finalizzati a sostenere il carovita della casa e quindi bollette e spese varie, ma anche il lavoro e lo studio.